Noi ci troviamo tanta gente che per una ragione o per un'altra è dipendente regionale, selezionata con sanatorie, con piccoli concorsi, molto spesso assunta perché poi in cambio ci avrebbe dovuto assicurare riconoscenza eterna, dobbiamo cambiare il sistema, io l'altro giorno nel giardino di questo palazzo d'Orlean ho incontrato 392 giovani, un po' di meno, ma tanti di più perché c'erano docenti e familiari che avevano preso 100 e lode agli esami di maturità, bene, devono essere loro assunti come consulenti, i laureati se ci vuole la laurea e anche se non ci vuole, perché no, per dare un segnale, il segnale deve essere questo, è una novità per carità anche per me, abbiamo parlato a questi ragazzi, cerchiamo di essere coerenti fino in fondo, diciamo che è stato il colpo di fulmine, è stata la folgorazione sulla via di Damasco, piuttosto che i raccomandati e coloro i quali dovrebbero poi esserci grati a vita, premiamo i migliori, quelli che col sacrificio loro, dei loro genitori e dei loro docenti hanno raggiunto il top, non perché li ha aiutati qualcuno, ma perché si sono aiutati e le loro famiglie, i loro docenti li hanno aiutati, questo serve per dare un segnale che ora sacrificandosi e non cercando la raccomandazione e bussando alla porta del politico o del Presidente della Regione si va avanti, secondo per migliorare ovviamente la qualità della macchina pubblica e della macchina regionale, si punta su coloro i quali sono i più bravi e quindi la macchina funziona meglio, mettiamo il migliore carburante piuttosto che acqua insieme alla benzina, mettiamo i migliori, i più bravi, non è che siano i migliori, possibilmente qualcuno è stato bocciato ma era intelligentissimo, ci vuole un criterio obiettivo però è un piccolo segnale. L'altra sera mi si diceva che i ragazzi sentiti, intervistati cominciano ad andare fuori per l'Università, chi ha la Bocconi, chi ha il Campus, chi ha la Cattolica, chi ha l'estero addirittura e poi questo vuol dire il primo passo possibilmente per restare fuori, la Regione non deve essere sicuramente o il Comune o l'azienda X o Y l'ente che assorbe i laureati tutti, più ne assorbe per la verità più risorse sottrae allo sviluppo dell'impresa privata che invece assume di più e privilegia per ovvie ragioni i più bravi e coloro i quali sono più disposti a sacrificarsi, ma quelli che la pubblica amministrazione deve ingaggiare gli stipendi dovrebbero essere adeguati a questa qualità che siano sicuramente i migliori in maniera tale che comunque si sappia che in Sicilia si inverte una tendenza, per carità sarà una piccola cosa, ma è anche qua un segnale e per giunta devo dire un riscontro all'entusiasmo, alla festa, alla partecipazione di genitori, figli e docenti che francamente hanno lasciato un po' il segno nella nostra testa per quello che hanno detto, ma anche per la loro espressione del volto di gente soddisfatta, appagata, ma anche carica di speranza perché questa Sicilia anche con il loro contributo, soprattutto con il loro contributo che sono puliti, giovani, freschi, non condizionati da mille compromessi come chi ha 50 o 60 anni o 70 anni, con il loro contributo possa essere e debba essere migliore, io ci credo e credo che questi ragazzi saranno protagonisti di questa svolta che noi dobbiamo intraprendere.